Prima di iniziare il video ti ricordo di Premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace Grazie La puntata del Grande Fratello ha visto come protagonista Shaila Gatta, la celebre ballerina, coinvolta in un momento molto emozionante e controverso. Dopo una settimana trascorsa in Spagna per il Gran Hermano, Shaila è rientrata a sorpresa in Italia, lasciando i coinquilini, e in particolare a Vier Martinez, spiazzati. Durante la diretta, i due hanno avuto un confronto acceso, dove sono emerse tensioni e parole non dette che hanno toccato profondamente Shaila, portandola a una reazione che non ha convinto i fan. Durante uno stacco pubblicitario, Shaila si è confidata con Lorenzo Spolverato, raccontando le sue emozioni. Visibilmente provata, ha esclamato, io mi sento proprio messa al rogo, capito? Ma che ho fatto di male? Non mi lasciano nemmeno il tempo di spiegare le mie cose. Che colpa ne ho? Una frase che, però, non ha del tutto convinto i telespettatori, che hanno definito la sua reazione come una «nuova forma di pianto», senza lacrime. Alcuni hanno commentato ironicamente, Shaila piange senza lacrime, forse è meglio che continui a ballare, perché con la recitazione non ci siamo. Ma prima di continuare, aspetta un attimo. Ti piace il video? Iscriviti, attiva le notifiche, metti un mi piace e lascia un commento. Il tuo supporto per me è prezioso. Il comportamento di Shaila, in effetti, ha suscitato molte critiche, soprattutto per la sua scarsa trasparenza nei confronti di Aviar. Quest'ultimo si è sentito usato e immesso da parte dalla ballerina, senza ricevere spiegazioni adeguate. Anche le ex partecipanti delle Nonella Rai, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, si sono espresse sulla questione, manifestando il loro disappunto verso l'atteggiamento di Shaila, mi dispiace, ma non può bastare un sbagliamo tutti. Serve anche un po' di sensibilità. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.